Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo su Fortnite a fare un video Adesso metto l'acqua e farò il video Adesso vi farò vedere come si vengono Una battaglia reale Non so già più il coso Ragazzi a tutti i miei video Faccio molto più la stessa sera Forte notte Grazie Grazie